Sia Mixess che Acerbi, che Costant, che De Ciglio stasera hanno fatto una buona partita in fase difensiva perché credo Cavani stasera abbia avuto solo un'occasione alla fine sempre su un disimpegno errato nostro una palla all'uscita di Mixess che invece giocare un pochino più lunga ha giocato a corta il primo errore è stato quello di Abbiati, mi dispiace che Cristian un po' l'ha messo e poi dopo abbiamo rischiato il terzo gol su un disimpegno sbagliato nella nostra uscita sapevamo che il Napoli poi sulle ripartenze era micidiale e ecco perché sono stati bravi poi anche il secondo tempo abbiamo preso un'occasione su un rinvio di De Santis un'altra su un'uscita di Mixess e c'è stato un errore quando la palla è passata in mezzo all'aria che De Scilio che ha fatto una buona partita ha fatto un errore di gioventù, di ingenuità quando si è fatto saltare da Zuniga sull'esterno credo che il Milano abbia fatto una buona partita anche sotto il punto di vista fisico però il Napoli sta facendo le cose importanti è terzo in classifica credo che abbiamo molti più punti rispetto all'anno scorso e poi stasera ci sono anche molti meriti del Milano